buongiorno a tutti questo è hp mb 14 spectra sinet l'ha giudicato il miglior prodotto visto access 2012 negli ultimi tre mesi ha vinto tantissimi award per un design una tecnologia soluzioni innovative in termini di materiali e costruttive davvero particolari davvero originali si tratta di un ultrabook di tipo premium che offre al cliente finale un'esperienza davvero speciale direi straordinaria si tratta di un prodotto assolutamente esclusivo e che si distingue da tutto il resto dell'offerta mobile sia in termini di tecnologia che in termini di design partiamo dal design il prodotto è spesso 20 mm pesa 1,8 kg ha una cover interamente realizzata in vetro si tratta di gorilla glass che dà al prodotto non solo un'apparenza davvero originale ed esclusiva impreziosisce il design del prodotto ma le dà anche notevole robustezza anche l'interno è ricoperto di gorilla glass tutto di color silver qui veniamo abbinati la soluzione gorilla glass con l'alluminio anche la tastiera è stata realizzata con una soluzione davvero particolare che chiamiamo radiance è retroilluminata e ogni tasto ha un proprio led questo fa sì che grazie a un sensore di prossimità la tastiera si illumini nel momento in cui l'utente si avvicina al proprio ultrabook e si spenga automaticamente per ottimizzare l'autonomia della batteria nel momento in cui l'utente si allontana lo schermo con una risoluzione davvero elevata 1600 per 900 ovvero alta definizione tipologia radiance capace di ottimizzare anche la resa dei colori e grazie alla tecnologia infiniti glass il gorilla glass arriva sul bordo esterno del monitor con una finitura edge to edge davvero bella a vedersi l'esperienza multimediale è davvero coinvolgente dell'alta definizione del display ne abbiamo già parlato l'audio l'ottima qualità audio è garantita da l'audio bizz audio infatti è installato anche su hp 14 spectre grazie ai quattro speaker e al regolatore analogico del volume riesce ad offrire un'esperienza davvero emozionante al cliente finale anche dal punto di vista delle performance mb14 spectre offre lo stato dell'arte della tecnologia oggi disponibile in ambito mobile questo prodotto utilizza un processore dual core tipo core i5 a passo consumo 4 gigabyte di memoria ram e un disco di memoria la solida da 128 giga ssd dotato di tecnologia hp cool sense che in grado di ottimizzare il raffreddamento del dell'ultrabook garantendo sempre la massima affidabilità di tutta la componentistica grazie a questi particolari tecnologici è in grado di garantire al cliente finale 9 ore di autonomia della batteria e un avvio in meno di 7 secondi grazie alla tecnologia intel rapid star technology mb14 spectre è il prodotto adatto a chi cerca una soluzione davvero leggera sottile da portare con sé nella vita di tutti i giorni ma che allo stesso tempo sa apprezzare un prodotto estremamente elegante sofisticato originale e in ogni caso senza alcun compromesso in termini di performance e di multimedialità sarà disponibile dalla metà di giugno sul mercato italiano a 1499 euro presso alcuni punti vendita selezionati ovvero alcuni punti vendita che sono in grado di dare dare il giusto spazio al prodotto e di presentarlo come si deve